Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò! Dai ragazzi, dai! Basta polemiche, stasera tutti uniti e si va a vincere, e si va a vincere stasera perché siamo più forti. Domani tutti quelli che parlano, io lo sapevo che perdevamo, io li odio tutti quelli da, tutti quelli che mi vengono a dire no ma io lo sapevo che perdevamo, oggi non mi interessa, oggi bisogna andare a vincere, bisogna stare uniti e bisogna andare a vincere perché le chiacchiere stanno a zero, perché se domani perdiamo, se stasera perdiamo, non è che quelli che hanno detto io lo sapevo vincono qualcosa, hanno perso anche loro, perdiamo tutti stasera, quindi stasera zero polemiche, ho sentito che gioca a Gabbiadini, gioca a Giorginio, non mi interessa, non mi interessa chi gioca, può giocare chiunque ma stasera bisogna vincere, quindi oggi zero polemiche, non voglio sentire polemiche, zero polemiche, si sta uniti e si va a vincere. Poi domani parliamo, la tecnica, non è che parliamo adesso, tanto non cambia, quindi mi raccomando ragazzi oggi video molto breve, ma per far capire un concetto molto chiaro, oggi zero polemiche, zitti tutti quelli che vogliono che perdiamo, lo sapevo, non mi interessa, non mi interessano, oggi si va a vincere, dai, dai ragazzi!